Ciao ragazzacci, io sono Mito155 e siamo qui su Transport Fever Mi è venuta in mente una cosa Io non posso bloccare subito la nave Mi conviene bloccare questa linea Che non mi ricordo qual è Quindi la linea Linea nave, no? Linea acciaio nave Questa la devo bloccare Quindi fai una cosa Veicoli, glieli togli tutti, glieli togli Quindi mandali al deposito Mandalo al deposito E mandalo al deposito Perché il 2 non va al deposito? Vai al deposito, per favore Ok, quindi La linea acciaio nave la blocco Però blocco prima questa e poi la nave Se no è un casino Poi questo veicolo che c'era qui Ok Gli dico Ascolta Ma se tu quasi quasi mi potresti fare una cosa bella Mi potresti fare Prendi Aspettate, fatemi ragionare A questo veicolo gli dico Ascolta, prenditi la linea Iron Ore Sì Mi posso dire questa Vai lì, prendi l'acciaio e lo porti là Perfetto Quindi uno se ne va sull'acciaio Ok Sì, penso di sì, dai Qua acciaio non ce n'è più Quindi qua lo potrei anche rompere Potrei spostare anche quello Vabbè Potrei fare un sacco di cose Anche tu Fai una cosa Fatti la linea Iron Ore E anche tu Senza che torni indietro Fatti la linea Iron Ore È quella giusta, vero? Che io a volte sbaglio con le linee Ok, perfetto Quindi lui sta andando lì sopra Vai, linea Iron Ore Iron Ore Iron Ore Quindi portiamo tutto acciaio Il treno qui sta arrivando Penso di sì Mamma mia sto treno Che lentezza che c'hai Però c'ha 22 persone Io spero di rientrare Dei 100.000 Della linea Perché penso proprio Di non farcela La linea acciaio 2 Qual è? Ah, è questa Ok, quella poi la blocchiamo Non vi preoccupate Fammi vedere Rientriamo della spesa Cioè Ce la facciamo Perché secondo me Tutti quanti Uh, 117 Mmm Non è tantissimo Perché se voi pensate 117 C'ho 11.000 di budget Finché lui torna È un casino Torna indietro Invertiti Qua ci sono tre persone Che aspettano No, non è vero Ho sbagliato Non c'è nessuno che aspetta Sono tutti qua La fermata dell'autobus Scusa Ho sbagliato io Ho sbagliato Ritornatene a casa Infatti Non c'è nessuno che aspetta qui Che schifo però Lui mi diceva Di farne due Eh Di far due o tre No ci pensiamo Prima di cosa Sistemiamo tutto il resto Allora Quindi quelli là Stanno viaggiando Lui lo prende ancora L'acciaio Sì Prende l'acciaio E produce Produce quello lì Perfetto Quindi arrivano qui Buttano l'acciaio Fammi vedere se lo buttano Questo acciaio Qui c'è un sacco di iron ore Che lo produce questo Perfetto Questo qui però Vorrebbe Ok, no, no Ci sta, ci sta Sto iniziando a capire le cose Poi la navicella Qui Di navicella Salve navicella Sistemiamo tutte le cose Perché se no Non c'entriamo più Non c'entriamo Full load Load if available Ok Quindi Lui arriva qui Lo facciamo scaricare E lo mandiamo a casa Quindi la nave Ciao nave Mi hai servita Mi hai fatto l'obiettivo E ora ti mando a casa Potrei anche venderla Eh, a della verità Così non pago spese Di gestione E cose varie Sì Probabilmente la vendo Quindi mettiamo la nave qua Controlliamo quando arriva A destinazione Come vedete qua Il treno Non mi conviene per niente Non mi conviene Neanche questi due autobus Non mi conviene per niente Non mi conviene Non so veramente come fare Lui mi dice Fatti due linee Ho capito Ma faccio due linee E poi Fermiamoci un attimo Ho messo pausa No, non ho messo pausa Un cavolo Che cosa mi ha detto lui Prendi i treni Mi ha detto Oh guarda Che puoi fare del Freight, freight Questi che so Train Questo invece Posso fare dei segnali Ok Use it to rerouting a line Che cavolo vuol dire Non li so usare Sti segnali Cioè Dovrei fare Tipo del Ma poi non mi conviene A me comprare Comprare un altro treno C'ho un milione soltanto Che ho compro a fare Eh Non lo posso comprare Le medaglie Quante che mi dice Prima del 1902 Dai Non ce la faccio In cinque anni Questo ci mette due anni Per fare un viaggio Mi servirà per forza Scusi signora nave Lei che punto è Scarichi questo qui Che poi la blocco Tanto non mi serve Io potrei fare Delle altre Ma non mi convengono Queste qua Per strada Guardate qua Mi fanno perdere Mi fanno perdere poco Ma mi fanno perdere Quindi la nave c'è E poi io dico di andare Al deposito Così la vendo Ok Vattene al deposito Va Che è giunta l'ora Per te di andare a casa La linea acciaio nave Qual è? Questa La posso anche Eliminare Come si elimina? Questa è una bella domanda Questa è la linea La posso centrare Finanze Replacement Veicoli Non ce ne stanno Charts Finanze Overview Ok Fermi Fermi Cos'è che è uscito? Ah vabbè Ma tanto a me che me frega Non le sto usando Quindi Questo qui è qua Questo è qua Facciamo Vendi Vediamo se mi da dei soldi Mi ha dato un po' di soldi Non è male Questo qui non mi interessa Grazie Questo trenino Qua le ha preso le persone Sì che le ha prese Non saprei come fare A gestire i segnali Perché i segnali Sono fatti veramente bene In sto gioco Ma non li so se gestire Quindi non mi interessa Poi cosa c'è più qua? La linea carbone va bene Linea nave Linea nave Io le vorrei cancellare Ste linee Non so come si fa a cancellare Col tasto destro? No E se io faccio Rimuovi 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 E chiudi Ok Mi dice Guarda che non so cosa c'è più Non so come gestirle Ste cose Non so come cancellare le linee Questa è bella Questa è bella Hanno fatto tutte queste cose Anche questo qui Vabbè le lascio Che me frega Saranno zero Arrivederci e grazie Poi Questo mi fa perdere un sacco Questo mi fa perdere Questo mi fa perdere Mi fa guadagnare La linea acciaio 2 Ok Dobbiamo controllare Se ce n'è ancora Perché se acciaio qui Non ce n'è più La chiudiamo anche questa Acciaio non ce n'è più Quindi mo chiudiamo Tutto Fammi vedere i veicoli Gli dice Al 7 di tornare al deposito A questo di tornare al deposito A questo di tornare al deposito Non capisco perché alcuni Non me li fa L'8 non ho cliccato bene Dov'è l'8? Torno al deposito Ok perfetto Quando questi qua Arrivano al deposito Non li vendiamo Quindi questo è il deposito Andiamo sul deposito E diciamo Questo qui lo puoi vendere Ciao Quindi teniamoci Questo qui che è buono Questo lo puoi anche vendere Quindi come li vendo Li butto via Perché se no Spendo un sacco di soldi Per niente Non sto facendo economia Per niente Questo mi arriva Qui c'è un passeggero Qui c'è un passeggero Che aspetta Mamma mia Mamma mia i soldi Che possono arrivare Quindi cancella questo Fammi vedere Qua c'è qualche passeggero 8 passeggeri Quindi cominciano a svilupparsi In una certa economia E anche questo lo posso buttare Perfetto Quindi anche questa linea è andata Questa qui è Kirchaldi Ok funziona Abbastanza Non è che c'è del traffico Non hanno voglia di fare niente Non vogliono viaggiare le persone Non ci sono soldi Quindi facciamo così Devo fare un sacco di viaggi Complete trips 1 Come 1 Ero già a 1 Scusi Come 1 Qua ne ho 3 Devo farmi un altro Devo solo capire Come gestire Come gestire i segnali Quindi mettiamoci qua Belli vicini Fammi capire sempre Se sto guadagnando Questo non mi fa guadagnare niente Acciaio 2 qual è? Vabbè acciaio 2 L'abbiamo finita Quindi non mi fa Sarà 0 La iron ore Mi fa guadagnare un sacco Perché? Perché porta acciaio qui Che poi Se lo prendono questi qua Almeno credo Credo Non ne sono troppo sicuro Fammi vedere Sì dai Acciaio nave 25 Ok Quindi vediamo di fare una cosa bene qua Non saprei Questo qui mi fa pagare qualcosa No non mi fa pagare niente Devo solo capire come gestire i segnali Io potrei fare Guardate che ideona Io faccio Qui che è pianura Faccio un'altra linea Too much slope Ok Too much slope non va bene Allora la faccio di qua Ma scusi Se io facessi una cosa del genere Però too much slope mi dice Ma che vuol dire too much slope? Troppo Troppa pendenza Non è neanche tanta Ok Così è lo stesso E allora come si fa? Ah perché questa qui non è la stessa Ok ho sbagliato io Scusatemi Io faccio una cosa del genere Spendo Quanto spendo? Non spendo tanto Ok qui E poi questo qui Lo vado a collegare Da qualche parte Ok così Mi dico Belli Tu che arrivi di qua Dici che si collega Non sono troppo sicuro Ma non me lo fa più cancellare Ah me l'ha fatto cancellare Perfetto No aspetta aspetta Aspetti di suonare tu treno Ok così Allora io vorrei Guardate qui che leona Che è il treno Proviamo a metterne uno di questo Che è il treno Che com'è che si fa? Allora così Così Mi devo dire Tu vai a destra Vediamo un po' Che succede Io la metto qua Lui che capisce Invece questo cos'è? Tu vai dritto E dall'altra parte Che c'è scritto Eh tu vai dritto Eh tu vai dritto Tu vai dritto Vanno a fare l'incidente Mi scusi Ok Devo dire A quello lì Fermiamoci così un attimo Controlliamo se si può cambiare qualcosa Tu Waypoint Che cavolo vuol dire? Cioè io volevo cambiare La linea del waypoint Waypoint 1 Io vorrei che Il treno che scende Va di qua E aspetta Quando quell'altra arriva Si allarga Anche se non è proprio a metà Chi se ne frega Vediamo un po' Se io dico Non so Non so Non so Sono un po' bloccato In questo momento Quei segnali non li ho capiti bene Non me li ho neanche spiegati bene Tu e line Ah La devo aggiungere A una linea Quindi A questo A questo treno Io posso dire Oh bello Add station Io dico Prendi questo E lo Lo metti sopra però Scusi Un po' più sopra Non si può mettere Eh questa è una stronzata Non me li fa spostare Scivola un po' Paggio giù No Paggio su Add No niente Allora che mi serve Mi serve a niente Non mi serve Boh Io non ho capito Sta cosa qui Io vorrei che loro Si fermassero lì Ma Non me l'ha spiegati Non mi ha fatto capire bene Non me l'ha proprio spiegati Questo qui cos'è Vediamo un po' Io lo metto qua E dico A bello Fammi vedere Che cos'è sto cosa One way Ok Tu puoi andare Dalla sola parte One way Si Quindi vai dritto Ok vediamo un po' Devo aspettare che ritorni Allora Dov'è mo' il treno Che è che suona Basta queste navi Non mi tresano Questo è un sommergibile Peraltro Devo capire se il treno Lì si ferma E aspetta Eh non Non è chiaro Non è chiaro Sto perdendo anche soldi Cioè Non so se avete capito Ma Questa qui Mi fa perdere un sacco di soldi Mi fa perdere Ma se posso mettere un biglietto Un po' più Quante persone ci sono 16 Boh Non ho proprio capito Eh Peraltro Io qua potrei fare Un'altra stradina Per andare Mi fa perdere un sacco Questa qui Di Edimburgo Vediamo qui quando arriva È carico almeno Carico è carico Qua ci sono sempre poche persone Perché qua ci sono poche persone 22 97 Che guadagno di là No path Lo vedi qua Si è bloccato Si è bloccato Aspetta un attimo Fermo un po' Qua c'è C'è un No path C'è un problema adesso Ok Fammi capire Questo qui Non ho capito Che cavolo è Quindi lo cancello Quindi questo qui Lo posso Lo posso cancellare Quindi questo lo cancello Vediamo se adesso c'è il path No non c'è il path Quindi ho messo questo semaforo Ma ho fatto solo del danno Ho fatto quindi Ok Adesso può andare Quindi invece che metterlo lì Invece che metterlo lì Proviamo a metterlo Qui sto segnale Ok Io lo provo a mettere qua Però lo vorrei mettere Da questa parte Non so dove metterlo Allora Se lo metto da qui Questo di qua Quindi lui capisce Che vuole venire Eeeh Proviamo a metterlo qui E proviamo a capire Sta cosa Devo andare Devo andarmi a studiare Questi segnali Perché non ho proprio capito Un cavolo Dov'è il treno Peraltro Treno 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 Ok non ha problemi Vediamo se lui Prende la strada Da questa parte Vediamo se lui Va di qua Magari va di là Che vi devo dire Però sto perdendo Un sacco di soldi Mi sa che mi manderanno Un altro bonifico Complete trips Uno E però solo uno Ci vuole una vita Così ci metto Trent'anni Ci metto Qua non c'è più niente Qua non c'è più niente Qua non c'è più niente Qua questo qui Non c'ho più Manco le barche Eeeh Disastro però Perché i soldi vanno giù Invece che andare su La linea carbone Questa si riprende Poi Livingstone E se io facessi Una stazione Che collega Livingstone A quest'altra stazione Di Edimburgo Ne facessi un'altra Per strada Sempre Che da Dune Firm Line Arriva A Kirkland Per avere più passeggeri Magari Allora questo lo posso fare Perché tanta strada Già c'è Quindi che me frega E io quasi questo Lo faccio Eh sì che lo faccio Cavolo se lo faccio Quindi mi serve Inoltre qua c'avevo No troppo lontano Eeeh Fammi capire Prendiamo Prendiamo su strada Sì Poi aggiungi Questo qui Lo metto qui a metà Più o meno Prende tutti Mettilo Mettilo dove vuoi Ok Mettilo qui Perfetto Poi prendo Un deposito Normale Tanto costano poco Costano Chi se ne frega Lo piazzo anche qua Lo piazzo Ok Poi vado su questo E gli dico Compro un veicolo Passeggeri Questo qui Lo compriamo Diciamo che questo qui Deve fare Livingstone Un nuovo veicolo Che va disponibile Eeeh Mo lo vado a guardare Allora questo qui Deve fare Living Living No aspetta Cancella tutto Living Livingstone Sì Eeeh Edimburgo Edim Edim Va bene Edim va bene E gli dico Tu Bello Ti vai a fare Una nuova linea Che parte di qua Ok E arriva fin qua Che cosa Fenomenale Che sto facendo Ci mette un po' Ci mette Ci metterà 30 anni Però Va bene Questa linea si chiama Livingstone Scrivo Living Edim Così ci mettiamo di meno A scrivere i nomi Ok Questo va bene Quindi tu Stai funzionando Ma ha detto che c'è Un nuovo veicolo Cos'era? Un treno era? Batrains Steam Passantica Che cavolo è uscito Allora E' uscito qualcosa E' uscito Non ho capito Che cos'è Ok Prendiamoci Prendiamoci un altro Un altro di questi Non riesco a completare Il coso Non riesco a capire Che cosa Mi ha detto Prima Multiple unit Vagone E' uscito qualcosa Doveva essere forse Un autobus Non lo so Fammi capire Che cos'è Che mi ha dato Era un tram E' uscito Un tram Vabbè Che se ne frega Devo capire Dove prendere Sti soldi Peraltro Questo qui Sta sempre a zero Quindi completa Almeno Cinque Viaggi Con Passeggeri Tra Cinque in un anno Ah Questo è il mio problema Cinque in un anno Cinque in un anno Questo qui ci vuole Un sacco di tempo Cinque in un anno Ci vogliono Treni a A strafottere Proprio Quindi Prendi un altro treno Locomotiva Mi prendiamo Questo che è il più veloce Ok Costa un milione Però Porca miseria Questo qui fa 40 Prendiamogli questo qui La Prussian Gli aggiungiamo Gli aggiungiamo Aspetta A questo qui Dobbiamo aggiungere Delle cose Aspetta 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 Dei vagoni Passeggeri Gli aggiungiamo No Questo costa un po' tanto Questo fa 11 Facciamogli questo qua 1 E 1 2 Ok E gli diciamo Va bene Fatti Edinkirk Waiting for free path Questo è un cavolo di problema No Ho trovato la strada Dai Quindi Fammi vedere Edinkirk C'ha due treni Voglio capire se loro Funzionano senza problemi Quindi Questa cosa qui Che ho fatto Lo sistema Quello va di là Spero che non si blocchi qua O che si blocchi Da qualche parte Devo fare magari più soste Vediamo un po' come funziona È un casino È un casino Sto gioco Cioè 5 Ecco lo vedi qua Chi è questo qui Si è bloccato Si è bloccato Si è bloccato Cavolo Quindi Questo qui Non va bene Non va bene Perché si blocca lì Invece io volevo che si bloccasse qui Tipo Ti fermi qua Allora Aspetta un attimo Proviamo a metterci un waypoint Ma non va Lo stesso Non va Il waypoint Non ho capito a che serve Dovrei forse Rimodificare tutto Ma non mi fa modificare bene Eh Io come faccio Questo qui sta aspettando Questo aspetta Fermati un attimo Guarda Questo aspetta Quell'aspetta Che cavolo aspettano Devo assolutamente inserire Il waypoint Allora ci fermiamo qui Ci vediamo nella prossima puntata Dove sistemeremo questa cosa qui Dei treni Io Non ci ho capito niente Dei treni Spero di trovare qualche informazione E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao 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 Ciao